E' Don Luigi Mazzucato, il vincitore del premio Civilitas 2012, assegnato ieri sera al Teatro Accademia di Conegliano dall'Associazione Dama Castellana, promotrice dell'evento. Giunto alla diciottesima edizione, lo spirito del prestigioso riconoscimento è quello di segnalare cittadini la cui storia personale rappresenti un esempio di silenziosa abnegazione in favore del prossimo e del bene comune. E nel corso della sua lunga e stancabile attività, Don Luigi Mazzucato, sacerdote padovano, laureato in teologia presso l'Università Gregoriana di Roma, è stato l'anima del CUAM Medici con l'Africa, organizzazione non governativa da oltre 60 anni in prima linea per la promozione e la tutela della salute della popolazione africana, al fianco di medici, infermieri e personale tecnico che attualmente è presente in paesi martoriati da fame, guerre e carestie, quali l'Angola, l'Etiopia, il Mozambico, il Sudan, la Tanzania, l'Uganda, la Sierra Leone. Lo scopo nostro è sempre di cercare di dare un contributo per i problemi seri, gravi che ancora ci sono nel piano della salute in questi paesi del terzo mondo e soprattutto in Africa. L'obiettivo che abbiamo sempre avuto e che riteniamo il prioritario è quello di formare il personale perché se non si creano le competenze, le risorse locali che gestiscono poi i servizi, i professionisti seri preparati non si risolve nessun problema. Penso che sia un riconoscimento per tanti anni di attività che facciamo in modo, cerchiamo di fare in modo serio, coinvolgendo molto anche per esempio la comunità qui, con i nostri volontari, con il gruppo di appoggio che abbiamo, molto attivo anche qui a Coneliano.